Video, stories su Instagram, sitcom, tv, ormai il mondo della pubblicità è cambiato. Inutile dire che le aziende hanno già da un po' puntato molto sull'influencer per veicolare i loro messaggi e far conoscere prodotti e servizi. La domanda però è quali brand e prodotti è giusto comunicare e soprattutto un influencer dovrebbe collaborare con tutti prediligendo il lato economico oppure dovrebbe fare una selezione portando la priorità alla qualità dei contenuti? Lato mio la risposta è piuttosto banale ed è una e una sola e se mi seguite da un po' sapete che vi parlo solo di brand e di prodotti che mi piacciono, dei quali mi fido e a molti dei quali mi sono legato personalmente per più anni utilizzandoli con piacere anche nella mia vita privata e quindi sono convinto che se fatta bene un'attività di collaborazione con un brand può brotare un valore aggiunto a chi guarda oltre naturalmente la possibilità di guadagnare e quindi di poter svolgere l'attività professionale da parte di un content creator. Già ma come si svolge questo processo? Beh ecco oggi vi porterò dietro le quinte di questo mondo raccontandovi come lavoro io e come produco reddito dalla mia attività e uno di questi modi è sicuramente creare contenuti in collaborazione con le aziende che però hanno tutte una cosa in comune devono essere appunto aziende o servizi in cui credo veramente e Honor è sicuramente una di queste. E qui torniamo alla domanda principale come effettivamente guadagna chi come me pubblica principalmente su youtube? Ecco sì l'idea più comune è che lo youtuber guadagni con le visualizzazioni su youtube dei suoi video no quindi la pubblicità che passa in realtà non è propriamente così si guadagna certo con le visualizzazioni e poi vi farò vedere anche quanto ho guadagnato io nel 2021 ma quella è solo una fonte di guadagno per chi lavora su youtube in realtà come vi dicevo c'è tutta la parte relativa appunto alle collaborazioni con i brand come ad esempio questo video che è dedicato ad Honor 50 il nuovissimo smartphone 5G quello che vedete qui tra le mie mani e che sto utilizzando da ormai tre settimane come dispositivo principale per il mio lavoro. Honor 50 che è il nuovo top di gamma 5G e che appunto ha favorito il mio lavoro in questi ultimi giorni. giorni in cui l'ho sfruttato per le sue capacità foto video per la buona batteria per il display a 120hz e per la reattività in generale di uno smartphone che torna con i servizi di google e lo fa con una grande credibilità e proseguendo quella che era la tradizione di ottimo rapporto qualità prezzo di Honor. Tra il resto poi ora c'è una promo succosissima per portarsela a casa ma di questo vi parlerò poi durante il video. In questo caso ad esempio cosa è successo? Ho preso accordi con Honor per realizzare dei contenuti dedicati appunto al loro prodotto, raccontarvi il prodotto senza però fare una recensione che non sarebbe certo opportuna quando si tratta appunto di collaborazioni di questo tipo. Ma al di là di queste considerazioni voglio però farvi vedere quanto è bello il retro con questa finitura gradiente che io ho scelto in colorazione emerald green, back cover che definirei unica nel suo design grazie appunto al disegno del comparto delle fotocamere a doppio anello, assolutamente inconsueto ma a mio gusto decisamente appagante alla vista. E sì non è facile certo posizionare quattro fotocamere senza che si notino troppo e secondo me Honor ce l'ha fatta, del resto non è una novità, vi ricordate a suo tempo Honor 8? Già ma come partono queste collaborazioni? Ecco generalmente le aziende interessate mi contattano per mail, mi spiegano quali sono le loro richieste e da lì parte una serie di corrispondenza per mail ma anche telefonica per arrivare poi a un accordo finale che soddisfi entrambe le parti. Quindi quali e quanti contenuti realizzare per l'azienda e quale compenso per il creator e soprattutto per quello che mi riguarda portare anche un contenuto che abbia del valore per chi mi segue. Qui come vedete ho sfruttato il comparto foto e video di ottimo livello di Honor 50, fotocamera principale da ben 108 megapixel, una ultrawide da 8 megapixel più una macro e una bokeh. Capite molto bene come per chiunque ma a maggior ragione per chi per lavoro crea contenuti sia fondamentale avere la possibilità di catturare sempre lo scatto migliore o registrare il miglior video possibile dove in effetti Honor beh promette e mantiene con alcune modalità anche originali come la registrazione multicamera o la funzione stories. E parlando di stories io ad esempio le faccio molto spesso soprattutto con la fotocamera frontale e in questo caso abbiamo ben 32 megapixel con wide angle e intelligenza artificiale. Buongiorno allora sto facendo queste storie dal mio Honor 50 nel frattempo mi sto riprendendo mentre faccio le stories perché voglio farvi vedere come fare le stories. Insomma è complicato a spiegarlo lo capirete poi nel video che verrà. Dunque a grandi linee le collaborazioni con i brand funzionano così e permettono appunto alle aziende di far conoscere i loro prodotti e servizi e ai creator di avere la possibilità di guadagnare così da avere le risorse per alzare appunto il livello dei contenuti ma in realtà è qui seguito il mio discorso anche per aumentare la trasparenza e l'indipendenza perché se un creator ha i soldi per poter comprare i prodotti che vuole raccontare avrà una maggiore indipendenza nel farlo rispetto a magari chi per forza di cose dipendente dalle aziende per l'invio dei prodotti anche gratuitamente quindi in realtà non solo se le collaborazioni sono fatte con trasparenza possono essere utili ma addirittura portano grande beneficio e indipendenza a chi come me ad esempio può permettersi di comprare l'ultimo prodotto lanciato da un'azienda senza dover per forza essere dipendente dalla stessa ma riallacciandosi al discorso trasparenza beh ecco sui social bisogna o bisognerebbe sempre indicare la collaborazione con un brand tramite un hashtag su instagram peraltro se fate bene attenzione è abbastanza frequente vedere contenuti sponsorizzati li fanno tutti i creator più grandi ma anche quelli meno grandi e non è difficile o perlomeno non dovrebbe esserlo riconoscere un contenuto sponsorizzato perché deve essere sempre indicato con la dicitura hashtag ad hashtag sponsored partnership pubblicizzata e così via prima però di continuare e di svelarvi il secondo modo per monetizzare un'attività con la mia voglio raccontarvi anche come le prestazioni di questo honor 50 si siano in realtà rivelate sopra le mie aspettative soddisfando tutte quelle che sono le mie esigenze sia lato lavorativo ma anche perché no di puro svago in fin dei conti il processore 778 g di qualcomm e 6 gigabyte di ram rendono tutto piuttosto gradevole ma al di là di tutto è fondamentale dire che finalmente sono tornati i servizi di google che possiamo dire quello che vogliamo ma sono imprescindibili e qui su honor 50 abbiamo la magic ui 4.2 basata su android 11 di fatto una versione completa del software android con i servizi di google e tutta la sua suite di applicazioni ma tornando a noi ecco un importante fonte di guadagno per chi crea contenuti online è indubbiamente l'affiliazione ed è anche la più facile da raggiungere in quanto non richiede di avere numeri importanti la può attivare chiunque fin da subito semplicemente aderendo ai programmi di affiliazione il più famoso utilizzato indubbiamente è quello di amazon ma ce ne sono decine per ogni singola azienda per store di vendita insomma il funzionamento è semplice ad esempio per honor 50 honor ha attivato una promozione natalizia incredibilmente interessante perché acquistando ad esempio la mia versione che è la 628 si ha subito uno sconto di 20 euro al check out e la possibilità di ricevere le earbuds 2 lite con un euro in più e aggiungendo il mio codice che vedete passare qui sotto ci sono ulteriori 20 euro di sconto ora prestate bene attenzione chi lo acquisterà sarà passato probabilmente dal mio codice dal mio link che vi lascio qui sotto in descrizione e quindi per ogni vendita a me sarei riconosciuta una piccola percentuale ecco questa si chiama affiliazione e praticamente tutti i creatori anche i più piccoli la utilizzano perché è un sistema vincente che permette al creator appunto di guadagnare qualcosa qualora il proprio pubblico faccia degli acquisti e a chi lo segue di sostenerlo senza spendere un centesimo in più ora se guardate infatti nella maggior parte dei casi in descrizione ai video troverete sempre dei link e nel 90 per cento dei casi sono link tracciati legati appunto ad affiliazioni gli stessi link che trovate a fine articolo nei blog e in ogni sito è indubbiamente la fonte di guadagno più semplice e più diffusa proprio perché non richiede particolari azioni se non appunto che chi ti segue si fidi dei suoi consigli e prima di arrivare alla parte soccosa quella dove vi farò vedere qualche cifra mi voglio soffermare su uno dei punti focali che deve avere uno smartphone cioè la batteria in questo caso da 4.300 mAh che fa direi nella media circa 5 ore di display attivo ma è la ricarica rapida quella su cui comunque sempre fare affidamento in caso di emergenza ma non solo con ben 66 watt e uno 0 a 100 in circa mezz'ora che insomma è strepitoso detto questo però siamo arrivati ai guadagni quelli relativi alle visualizzazioni su youtube che come ormai avrete capito sono solo una delle fonti di possibile guadagno per chi fa il creator ora vi spiego come funziona vi farò vedere anche quanto guadagnato io nel 2021 con i miei video che sostanzialmente sono una percentuale che google assegna il creator che appunto ha una partnership cioè la monetizzazione attiva derivante appunto dai proventi realistici degli annunci pubblicitari quelli che vedete all'inizio durante il video più volte un annuncio viene visualizzato su un video e maggiore sarà l'introito per il creator non è così facile fare una stima in quanto ci sono valori variabili come il cpm che è strettamente legato al territorio geografico pensate che negli usa può valere anche 4 volte rispetto a quello italiano e soprattutto in funzione dell'argomento del singolo video ad esempio il mio settore quello tecnologico non è altissimo ma se confrontato con il settore finanziario dove evidentemente le aziende sono disposte a pagare di più per avere uno spazio pubblicitario beh ecco c'è un bel gap in effetti si tratta di una vera propria asta ed è per questo che non è possibile fare una stima precisa e ogni creator a parità di visualizzazioni guadagnerà sempre una cifra diversa io ad esempio nel 2021 fino ad oggi col mio canale youtube e le visualizzazioni che ho fatto beh ho guadagnato circa 17.554 euro che può sembrare una cifra importante ma attenzione va divisa per 12 mesi e a quel punto diventano 1.462 euro al mese che però vi ricordo sono lordi ci vanno pagate sopra le tasse e i contributi inps diciamo che se va bene al netto rimarranno forse forse mille euro insomma lo avete capito per poterlo fare a livello professionale è necessario fare una quantità di visualizzazioni molto più alta oppure affidarsi come abbiamo visto ad altri fonti di reddito legate comunque alla stessa attività un po come questo video nel quale avete visto come protagonista honor 50 uno smartphone 5g elegante concreto e con un comparto foto e video di alto livello e con una serie di caratteristiche che lo rendono di fatto un top di gamma piacevole e affidabile sia nel lavoro che nello svago ma soprattutto un prezzo particolarmente interessante soprattutto ora in concomitanza con la promo valida fino al 31 dicembre video questo in cui ho voluto darvi un esempio di quello che può essere un modo per chi come me fa contenuti per poter collaborare con un'azienda in maniera comunque trasparente cercando di portare un contenuto che sia di valore e consentendo appunto di poter continuare a sostenere la mia attività ma dai sono curioso fatemi sapere cosa ne pensate qui nei commenti se avete idee pareri se era davvero quello che pensavate oppure pensavate totalmente diverso dai e se il video vi è piaciuto mi raccomando ricordatevi di lasciare un bel like ed iscrivervi al canale grazie da manolo agostini noi ci vediamo per un prossimo video sempre qui sul mio canale youtube